Nella vita come nel rugby bisogna avere una strategia. Nella vita come nello sport bisogna essere tattici per ottenere il massimo di risultati. Adesso vediamo la tattica per uscire da una racca. Allora, noi siamo placati dal nostro avversario. Qui arriverà un altro avversario, ok? Noi dobbiamo arrivare da qui e da qui per proteggere il nostro compagno. Perché dopo arriva il nostro mediano di mischia a prendere la palla, la passa al numero 10 con l'ala che correrà velocissimo di qua. Lui la calcerà qui, lui la prenderà e farà meta. Ricordatevi, la palla non va passata in avanti. Va passata al nostro compagno che è dietro a noi. Ok? Avete capito? Ok. Allora, devi prendere la palla e passarla al tuo compagno dietro. Accapito? Fa mi vedere. Occhania dal 22 dicembre... Acquina!